Il Castello della Monica, poco più di un anno dalla riapertura, comincia a dare i suoi frutti a livello turistico. Circa 27.500 le visite in uno dei luoghi simbolo della città, ristrutturato dopo decenni grazie a oltre 2 milioni di fondi regionali e con il contributo della Fondazione Tercas. Sindaco, alle nostre spalle un gioiello a livello architettonico e soprattutto culturale di notevole importanza. Tanti taramani lo stanno riscoprendo, tanti turisti da fuori regione lo stanno scoprendo per la prima volta. Il Castello è un riferimento culturale come patrimonio storico della nostra città, ma direi dell'intera provincia e dell'intera regione. Riscoperto nella sua fruibilità, nella fruibilità della sua bellezza lo scorso anno. Abbiamo aperto il 9 luglio del 2022 dopo decenni di attesa questo luogo magico, meraviglioso che è stato offerto ovviamente alla visibilità e alla visione appunto dei cittadini e di tantissimi turisti. I numeri sono importanti, significativi che nel corso di questo anno hanno consentito di valorizzare in tutte le sue potenzialità questo spazio. Tanto dovremo fare ancora, pensiamo in particolare alla prima mostra che si è svolta qui all'interno del Castello, la Camera delle Meraviglie, tra l'altro frutto di una collaborazione con una casa museo di livello internazionale, casa museo Bagatti Valsecchi di Milano. Segno che questo castello, il nostro castello, si apre ovviamente alla comunità culturale dell'intero paese e dobbiamo andare avanti su questa strada. Il sindaco D'Alberto traccia la rotta, ora il lavoro dovrà incentrarsi su altre location con la speranza di arricchire ulteriormente il patrimonio culturale e storico della città. Il teatro romano su cui abbiamo già avviato il cantiere nella precedente amministrazione con la demolizione dei due palazzi, segno storico di una rinascita, è in fase conclusiva l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori ed è un altro grandissimo obiettivo, il risultato non solo amministrativo ma un obiettivo di tutta la città. Il teatro romano, il teatro comunale, il nuovo teatro comunale con fondi PNRR ma io direi tutto il patrimonio culturale di Terramo Città Capoluogo che dal castello della Monica fino ai giardini, all'area archeologica di Manonna delle Grazie rappresenta un riferimento archeologico, storico, culturale dell'intera regione e che va valorizzato così. Grazie sindaco e soprattutto buon ferragosto. Grazie, buon ferragosto a voi, buon ferragosto a tutti.